Il Senior City Ancona è un'iniziativa dedicata a tutta la famiglia, un'iniziativa con la persona al centro che è solo al suo secondo anno, però ha puntato a diventare una tradizione per Ancona? Continuiamo a rafforzare il nostro impegno su Ancona e su Piazza Pertini, quindi in un contesto di una struttura molto elegante portiamo questa iniziativa e dopo il successo della scorsa settimana con l'artigianato artistico portiamo questa iniziativa con al centro la persona, la persona che per noi è centrale come confartigianato perché rappresentiamo imprenditori ma rappresentiamo più di 11.000 pensionati e quindi ha proprio questa valenza. Senior City è un'occasione più che Ancona solo per tutti, per le famiglie, per stare insieme ma soprattutto guardare la salute? Certo, Ancona Senior City è stata ideata proprio per questo, noi oltre ad avere i nostri 13.000 soci che sono pensionati sappiamo anche che bisogna pensare al territorio, pensare soprattutto alle esigenze delle persone, per questo Ancona Senior City vuol pensare a quelle che sono esigenze di questa categoria di persone, un cittadino su quattro nella nostra regione è over 65 e queste persone hanno delle esigenze, hanno delle necessità ma anche come quindi sia per vivere nel migliore dei modi questo periodo della vita ma anche come arrivarci nel migliore dei modi a questo periodo della vita e naturalmente le esigenze di queste persone a un certo punto ricadono anche sui propri familiari. Ancona Senior City vuole essere questo, diciamo istruzioni per l'uso per la terza età che serve sia per quelli che sono direttamente coinvolti in questo periodo ma anche a quelli che poi li devono insomma in un modo o nell'altro viverci insieme. Una manifestazione molto importante nell'ambito della longevità attiva ad Ancona in piazza Pertini, lo scorso anno è stato un successo, cosa prevediamo per quest'anno? Speriamo di replicare il successo che abbiamo ottenuto lo scorso anno, molti sono stati visitatori, le persone interessate, si sono avvicinate a questo nostro progetto con timore ma hanno capito e ci hanno chiesto anche nell'arco di questa annualità passata la replica perché hanno visto la nostra struttura con Fartigianato, un veicolo attraverso il quale poter ottenere delle informazioni, essere più vicine a quelle che sono le istituzioni, quindi centri medici, pubblici e privati e poter avere delle indicazioni per quelle che sono le attività che possano migliorare il tenore di vita, quindi anche lo sport, il tempo libero, l'aggregazione per una longevità attiva. Assessore Ema Capogrossi, il Comune di Ancona si impegna molto per promuovere la longevità attiva e Senior City ne ha la dimostrazione. Sì, il Comune di Ancona tra l'altro si impegna anche perché è all'interno della rete Città Sane che è un'associazione di comuni italiani in rete che fanno capo all'Organizzazione Mondiale della Sanità e Ancona la vicepresidenza di questa organizzazione ed è impegnata proprio sulla promozione dei sani stili di vita, della longevità attiva, ma noi non siamo solo impegnati, voglio dire dal punto di vista così teorico di adesione a dei principi, noi mettiamo veramente in atto una serie di iniziative, di supporto a queste come quella che si sta per svolgere qua ad Ancona, molto importante per noi, ma anche proprio sul nostro territorio sono realizzati progetti in particolare di longevità attiva, ma anche di, penso al servizio in forma bus che gira nelle piazze della città, quel camper colorato che vedete che va a promuovere sani stili di vita anche fra la fascia più giovane della nostra popolazione, quindi questo ambito siamo molto impegnati e questa è un'occasione straordinaria anche a disposizione della cittadinanza per avere informazioni, avere la possibilità di fare degli esami, quindi avere una maggiore anche consapevolezza del ruolo che ciascuno di noi può svolgere in questo campo. Quindi Senior City non è solo per gli anziani, è per tutti, per tutta la famiglia? Sì, mi pare proprio di sì perché le proposte sono molto variegate, quindi sani stili di vita le dobbiamo promuovere da molto presto, quindi mi sembra anche una scelta molto molto logica questa. Poi c'è tutto il settore legato alla senior età, che mi piace molto questo termine, che è anche particolarmente interessante. Noi vediamo che anche quando organizziamo iniziative in questo senso già dedicate a quella fascia d'età c'è una grossa partecipazione, c'è un grosso bisogno e forse è cresciuto anche in questi ultimi anni questa consapevolezza di capire che noi siamo i migliori medici di noi stessi.